Altra cocaina nascosta nei container adibiti al trasporto di banane provenienti dall'Equador fermi nel porto di Salerno. Sono 50 questa volta i panetti di cocaina del peso di 60 kg ritrovati nel corso di ulteriori controlli focalizzati all'interno del porto commerciale di Salerno da carabinieri e finanzieri dei comandi provinciali di Salerno unitamente alla locale agenzia delle dogane. 60 kg di cocaina che vanno ad aggiungersi al sequestro della scorsa settimana di ulteriori 157 kg. La droga ritrovata ieri pomeriggio mescolata con sostanza da taglio e venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 12 milioni di euro alle organizzazioni criminali. Sono in corso indagini dirette dalla direzione distrettuale antimafia presso la procura di Salerno diretta dal procuratore Borrelli come si legge da una nota a firma del procuratore della Repubblica Vicario Luigi Alberto Cannavale al fine di identificare i responsabili e mettere in piena luce i canali di approvvigionamento dello stupefacente e il conseguente suo smistamento nel mercato clandestino. L'ulteriore sequestro di droga segue infatti quello effettuato il primo aprile scorso quando dopo una segnalazione per manomissione di alcuni container carabinieri e finanzieri scoprirono in più container prima un quantitativo poi un altro fino a giungere al sequestro di 157 kg di cocaina occultati in due container di banane provenienti dall'Equador che avrebbero fruttato 70 mila euro. L'attività dei militari dei comandi provinciali di carabinieri e finanza diretti dal colonnello Gianluca Trombetti e dal generale Oriol De Luca è proseguita nei giorni scorsi fino a giungere ieri ad un ulteriore sequestro di droga. Non è dato di sapere se dai container prima del ritrovamento della cocaina i gnoti possono aver portato via altri quantitativi. L'attività messa in campo per contrastare il narcotraffico ha confermato la centralità del porto di Salerno come nodo di transito per i traffici illeciti di cocaina. Proprio ieri a pochi chilometri di distanza anche a Frattamaggiore in provincia di Napoli i carabinieri hanno inflitto un duro colpo al traffico di droga e alla criminalità organizzata sequestrando 500 kg di cocaina purissima del valore di oltre 50 milioni di euro. In linea con gli esiti delle indagini in corso che riaccendono i riflettori sul porto di Salerno luogo dove videosorveglianza e sistemi di sicurezza non reggono sufficientemente rispetto alla movimentazione di traffici illeciti e alla frequentazione del porto di persone non si esclude che ancora una volta possa essere il prefetto di Salerno Francesco Russo a convocare le parti per attivare una riflessione più ampia con le autorità competenti su come incrementare la sicurezza all'interno del porto commerciale di Salerno.